la stagione di caccia ormai alle porte siamo da fausti in compagnia di giovanna giovanna sappiamo che il vostro nome è sempre legato alle armi basculanti doppiette sovrapposti che piacciono particolarmente ai cacciatori in questo caso anche per la caccia con i cani da ferma siamo all'interno della vostra nuova area dell'area in cui i cacciatori possono trovare in pronta consegna e a prezzi ancora più vantaggiosi l'arma da portare direttamente a casa ci vuoi mostrare qualcosa un qualche fucile in particolare certamente tu sai che da tanto tempo noi abbiamo sempre il rapporto diretto con il pubblico e più volte ci siamo sentiti dire caspita ma una vostra arma è un'arma troppo bella da collezione non la posso utilizzare il concetto del nostro pronta consegna e della zona outlet è proprio per dare la possibilità ai cacciatori di acquistare delle armi robuste belle ovviamente senza mai perdere quello che è il nostro concetto più importante che è la qualità ma qualcosa da utilizzare senza avere la paura di andare nel bosco e di poter graffiare l'arma qui c'è una carrellata di doppietta molto belle fra le quali ovviamente anche il calibro piccolo perché tu sai che noi siamo conosciuti per il calibro 410 sono doppietta ovviamente da utilizzare col cane quindi in tutta caccia e questa nello specifico è una doppietta con le cartelle molto carina molto graziosa ma anche devo dire pratica perché quando hai un calibro 410 una cosa molto importante è anche avere un'asta che ti possa avvolgere visto che le canne sono molto piccole e con gli spari poi potrebbero agevoli sicuramente il brandeggio esatto per quanto la faccio imbracciare come no sì ma io questa ricordo di averla di averla provata anche sul campo infatti parliamo del modello dea slx e mi ricordo di averla provata anche anche a caccia invece per quanto riguarda i sovrapposti ecco in quest'area abbiamo una parte di quelli che sono i sovrapposti che offriamo in pronta consegna e nell'outlet e abbiamo per esempio questo modello anche nel modello nel super leggero quindi in alluminio che è molto molto pratico si brandeggia molto bene ed è una cosa sicuramente molto piacevole da portare nel bosco e da poter tenere per tante ore alluminio è sinonimo di leggerezza ma non di fragilità assolutamente no anche perché noi abbiamo studiato all'interno un rinforzo che permette quindi l'utilizzo dell'arma a lungo tempo e ovviamente anche la nostra chiusura brevettata for lox per cui è completo è veramente un'arma in braccio volentieri anche preso guarda un attimo perché ho notato l'incisione dedicata alla beccaccia sì sicuramente un'arma compatta che si presta all'utilizzo nel bosco ricordo al pubblico che possono trovare tutte le nostre armi online quindi nella sezione del nostro sito dedicata alla pronta consegna all'outlet possono trovare sia le caratteristiche tecniche che tutti i prezzi che ovviamente sono vantaggiosi proprio per incontrare quello che è il momento attuale e la richiesta della pronta consegna e poter permettere al cacciatore di realizzare il proprio sogno senza spendere una fortuna una ventata d'ottimismo ancora una volta fausti pronta è sempre vicina ai cacciatori Grazie a tutti